Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ha adescato una bambina, Gioia Tauro, l'uomo, un 63enne accusato di violenza sessuale aggravata e stato arrestato dai carabinieri. Eccole le immagini girate dalle videocamere di sorveglianza in cui si vede nitidamente un uomo, due cagnolini e una bimba di 10 anni andare via insieme. Potrebbero essere un nonno, lui di anni ne ha 63 e una nipotina, se non fosse che quell'anziano sconosciuto ha atteso la piccola davanti a scuola. Le ha mostrato i cagnolini e l'ha portata con sé. Mezz'ora in cui la mamma della bambina si è preoccupata, ha allertato i carabinieri, ha atteso inutilmente, fino a quando non sono tornati insieme con la piccola in stato confusionale. Secondo quanto ricostruito dai militari, il presunto orco avrebbe condotto la bambina a casa per poi accarezzarla nelle parti intime. Elementi di indagine sottoposti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, che ha disposto gli arresti domiciliari per l'uomo accusato di violenza sessuale aggravata. E' accaduto pochi giorni fa, Gioia Tauro, la famiglia e le forze dell'ordine insieme per proteggere la bambina ed evitare che il 63enne possa reiterare il reato. Cos'è successo in quella mezz'ora in cui la piccola è stata in malia dell'uomo? L'infanzia minacciata in una giornata di sole all'uscita di scuola da un uomo senza scrupoli che si è avvicinato ad una bambina ingenua. Il lupo e il cappuccetto rosso ma non è una fiabba e la cronaca in cui i protagonisti sono veri, in cui il presunto pedofilo ha turbato la serenità di un'intera famiglia e fatto scattare l'allarme in città.